Amici di Youtube e di Instagram, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con l'edizione giornaliera di oggi, sempre presenti, sempre qua. Non ci sposta nessuno, mi raccomando ragazzi un bel like, un'iscrizione al canale, gratuita allo stesso prezzo di Cialanoglu e Turam, da Statistiche e Analytics di Youtube Studio. Io notiamo che la maggior parte di voi che state guardando l'edizione giornaliera non siete iscritti al canale, beh, cosa state aspettando? Allora, tantissima carne sul fuoco, iniziamo innanzitutto con ovviamente la formazione che dovrebbe scendere in campo domenica sera contro il Monza, ovviamente ogni giorno cambia versione, perché da quello che ci vogliono raccontare, un giorno Inzaghi deve fare il turnover monumentale, deve mettere addirittura Zielinski regista, deve cambiare E, deve cambiare quello, deve cambiare quell'altro, poi il giorno dopo sembra che invece addirittura c'è da vedere un po' perché i nazionali, e poi si arriverà domani, che sicuramente giocheranno Mkhitaryan, Barella e Cialanoglu, io ne sono convinto, però poi questa è una mia idea, però andiamo a dare un attimo un po' più un commento da vicino, allora io, a prescindere poi da quello che si scrive, no, sul turnover, beh, sicuramente in Zaghi qualcuno cambierà, ma come ho detto ieri, no, se si arriva a ridosso di un trittico importante, un trittico fondamentale per gli impegni Monza, City e Derby, di solito il turnover si fa nell'ultima partita, certo che l'ultima partita capita chiaramente il Derby, è vero che sulla carta il Milan è quella più scarsa, perché ad oggi il Monza ci potrebbe nascondere più insidie, ma a parte gli scherzi, bisogna dire che comunque è giusto fare più turnover sulla prima uscita post-sosta, quindi con il Monza qualche cambiamento ci sarà. Per quanto riguarda la difesa, io sono convinto che Acerbi deve giocare, visto che sappiamo De Vrij quanto sia una sicurezza, ma soffre tanto i pennelloni davanti, soffre tanto gli attaccanti fisici, beh, il Monza ha come punto di riferimento offensivo Duric, che è un giocatore fortissimo nei contrasti aerei, difficilissimo da marcare, quindi penso che Acerbi sia perfetto, e sappiamo le caratteristiche di Francescone il leone, perché sugli attaccanti più fisici strutturati in questa maniera Acerbi ha sempre la meglio, De Vrij soffre un attimo le seconde palle, quindi io sono convinto che giochi Acerbi. Sulla destra Pavard è rimasto alla pinetina, si parlava di un Bissec per far riposare Pavard contro City al Derby, ma penso che giochi ben giro interista. Sulla sinistra Bastoni deve riposare, assolutamente, perché non ci voleva chiaramente quel affaticamento dato poi dalla preparazione molto affrettata per i rientri scaglionati dall'Europeo, però con l'Atalanta ha avuto quel problemino, e poi, non lo so, ma avete visto già il grande tecnico, il pelato di Certaldo, che il nazionale non ha perso tempo per metterlo titolare 90 minuti sia con la Francia che con l'Israele, e con la Francia addirittura fuori ruolo. L'avrebbe messo anche con l'Israele se non si fosse fatto male Calafiori, quindi deve riposare, giocherà Carlos Augusto sicuramente nella linea dei braccianti, come avevamo detto ieri, però poi domani ne sapremo sicuramente di più, questo è quello che potrebbe essere, secondo me, non è nulla di certo, però ecco, io vedo più un Carlos Augusto titolare più al posto di Bastoni che al posto di Di Marco. Di Marco potrebbe fare 50-60 minuti come di suo solito, con l'Atalanta è stata una prestazione monumentale, cioè è stata una cosa che non si ripeterà mai più, ma non dal punto di vista della qualità, perché sappiamo che abbiamo l'esterno più forte in circolazione, ma si parla soltanto di una questione fisica, cioè ha veramente stretto i denti fino alla fine Dimash con l'Atalanta, ma è appunto per questo che verrà sicuramente, farà una gran parte di partita, però poi verrà sostituito a dovere, e quindi penso che o si alzerà Carlos Augusto, oppure penso io, o si sposta ad Armiano, o si abbassa, potrebbe essere anche, ci potrebbe anche essere l'ingresso di Bissek per poi far alzare Carlos Augusto, non penso giochi Palacios dal secondo tempo, però chi lo sa magari potrebbe essere anche una vetrina già subito, magari a differenza dei fenomeni che dicevano che Palacios la prima partita che dovrebbe fare, la farà tra due mesi, i Tristonazzi che sono sempre lì pronti a parlare male, e allora magari il mister potrebbe già dargli la prima lezione, potrebbe già dargli una bella sconfitta sonora in faccia ai Tristoni. Sulla destra io penso che giochi Dumfries, perché vabbè poi tra le voci del rinnovo, tra tutto ha giocato con l'Olanda, Darmian è rimasto ad appiano, però bisogna sempre poi tra Dumfries e Darmian, il mister farà le scelte in base e poi l'avversario che vai ad affrontare, io penso che però Dumfries secondo me potrebbe fare magari il secondo tempo, ma questo non lo so, però sicuramente se non parte titolare per me 45 li fa, e poi il dilemma è in mezzo al campo, perché tanti parlano di Aslani che sostituisce Cialanoglu, però Aslani ha giocato 180 minuti, tutti li ha giocati con l'Albania in Nations League, quindi non arriva di certo freschissimo, Cialanoglu li ha giocati di meno, si parlava di un Zielinski addirittura messo a regista, le parole di Amsic ieri vanno sottolineate, mi piace ricordare Zielinski è uno dei centrocampisti più forti del mondo, come ha detto il Mare Chiaro, l'ex capitano del Napoli, e bisogna vedere come il mister girerà le carte bene a centrocampo, secondo me Barella gioca, non sono perché si parlava di frattesi, secondo me Barella gioca, Mkhitaryan sarà sicuramente l'ultra trentenne, destra e sinistra, ma è quello più in forma, fino a prova contraria per i Tristoni, spiace dirlo ai Tristoni, ma è quello più in forma, perché non è andato in nazionale, ha fatto quella partitella lì con il Borussia Dortmund, per il saluto di Piszczek e Blaszczykowski, ed è rimasto alla pinetina a lavorare con il gruppo, quindi, ecco, io non stenterei a credere che il mister potrebbe veramente far scendere in campo il centrocampo titolare, però vediamo, però ecco, Zielinski è quello forse più indiziato a giocare rispetto alle altre seconde linee, per quanto riguarda l'attacco, dicono che Taremi sia più in forma di Turam, non penso proprio, Turam ha giocato poco con la Francia, Taremi ha giocato sempre con l'Iran, ed è stato l'ultimo a tornare ieri insieme a Lautaro, quindi, sono convinto che davanti a Monza vedremo la coppia Arnaturam, Arnaturam suona bene foneticamente, Arnaturam, un po' come Ardaturan, il giocatore del Barcellona, no? Arnaturam, 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 Arnaturam è una bella sinfonia, comunque, davanti ecco, penso che si vedrà Arnautovic, che è quello che è tornato prima, comunque, ha meno minutaggio sulle gambe, e, cioè, ha meno minutaggio disputato, ne ha più nelle gambe rispetto agli altri compagni di squadra, e Turam, chiaramente, più in forma di netto, e, ha giocato meno rispetto agli altri con la Francia, quindi, io penso che poi si andrà verso queste scelte, ma, ripeto, domani ne sapremo molte, ne sapremo sicuramente di più, ora, ora, ieri ha parlato Marotta, veramente, bisogna riportare le notizie, le dichiarazioni, del presidente, perché, ieri c'è stata, ieri mattina la presentazione, l'anteprima per i giornalisti del film Inter due stelle sul cuore, ieri ho già prenotato i biglietti, perché non me li faceva prenotare, ieri sono riuscito, quindi, ci vediamo tutti al cinema, e, ieri nella presentazione, insieme a, Inzaghi e a Zanetti, poi, ieri sera c'è stata invece la cerimonia per i giocatori, quindi, c'era l'esclusiva per i giocatori, lo staff, la famiglia dei calciatori, per la visione del film, con un bisseg tutto drippato, col giubbino di pelle, non so se, vabbè, è vero che non fa caldissimo in questi giorni a Milano, però, insomma, c'era un bisseg tutto bello ringalluzzito, insomma, taremi stiloso, con la camicia e i jeans, tranquillo, insomma, questa è una serata molto speciale, che racconta la cavalcata trionfale, che ci ha portato il ventesimo scudetto, alla seconda stella. Abbiamo creato questa fantastica sinergia con il cinema, il nostro regista è stato Simone Inzaghi, gli attori protagonisti, questa squadra. Il cinema è immortale alle emozioni che abbiamo vissuto, esalta i valori e la passione che ci hanno portato a questo traguardo. Dentro a questo film ci sono scene indimenticabili, che ci emozionano e demozioneranno tutti i tifosi nerazzurri. Zanetti, riviviamo emozioni immense, lo dico anche da tifoso, la mia famiglia interista e i miei figli si sono commossi quando abbiamo raggiunto questo traguardo, vedendo questa squadra sapevo che potevamo vincere, ho visto come hanno lavorato il gruppo, lo staff e i giocatori. Questa pagina è importantissima del club, rimarrà per sempre. Adesso arrivano le bellissime parole di Inzaghi invece, sono emozionato, lo ammetto. Nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario, la seconda stella ci unirà per sempre. Il grazie va a tutti, ai ragazzi, ai calciatori, che non fanno più parte di questo gruppo, alla società che ci è sempre stata vicino. La seconda stella ci unirà per sempre. E beh, questo non può che non essere la verità, perché sicuramente, come ha detto bene Inzaghi, non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. perché quando si raggiungono certi traguardi, insomma, questa squadra ha scritto la storia della città di Milano. Vincere la seconda stella, il ventesimo scudetto, dalla prima squadra di Milano alzato in faccia all'altra compagine ossessionata di Bilanello, vuol dire proprio scrivere la storia, improntarla nella roccia. Ed è per questo che, come ha detto bene Inzaghi, questo trionfo, questa storia scritta, ci unirà per sempre. C'è chi fa gli esposti e c'è invece chi fa l'esposto vero, ma l'esposto quello inconfutabile, ovvero scrivere la storia e portare un trionfo per le strade di Milano. Come ha detto bene Marotta, poi ieri dopo la cerimonia si è emozionato non soltanto alla vittoria dello scudetto nel derby, ma soprattutto a vedere il 28 aprile, quindi non solo il 22 aprile, ma anche il 28 aprile, con quella marea, 500.000 cuori nerazzurri per le strade, dove abbiamo accompagnato il Pullman una parata di 7 ore. Ho solo i crampi ai piedi a pensarci a quanto abbiamo camminato quel giorno con Arnautovic che si ruba il cappellino di mio padre. Insomma, sono state emozioni che ricapiteranno, sì, ma non per un evento e per una situazione del genere che si è venuta a creare alzandoglielo in faccia. Questo era lo scudetto, non era uno scudetto, questo era lo scudetto, lo scudetto della seconda stella, lo scudetto che ha sancito proprio il vero lavoro di Inzaghi, il vero lavoro di questa dirigenza con 5 anni di mercati inattivo e quindi questa è la dimostrazione della competenza di una dirigenza che tra l'altro nella classifica è differenza costo-valore più 352 milioni, a differenza di qualcuno che ha meno 52, ultimo in classifica per la differenza costo-valore e gli ultimi fanno gli esposti ai primi. È umiliante per loro, è molto umiliante, assolutamente, e poi io volevo darvi però questa chicca, io volevo farvi sentire un attimo il discorso di Frattesi nella partita contro il Verona. Sentite qua. La più falla che abbiamo giocato. Dopo il pareggio loro ho detto Aya. È stata bella pesantina a livello emozionale come partita. Le speranze si stavano abbassando. Lì ho detto non è possibile. Lì ho detto non era il nostro. Il campo non era bellissimo, mi ricordo. Quindi ho detto io ci provo. Guarda che è scoppiato tutto. Ebbè, il campo era bagnato e quindi Davidino ha detto io ci provo. Arrivo sulla ribattuta e poi è andata è andata come doveva andare. Grandissima. Chiaramente poi ragazzi sono momenti emozionanti vabbè quella su tutti io ripeto ancora la partita più emozionante secondo me è stata quella con il Verona perché con l'Udinese sì sicuramente è stata più una partita della provvidenza però già lì avevi capito che era il tuo anno ma con il Verona invece era una era molto diverso perché era la prima dell'anno nuovo con i Gobbi che comunque continuavano bene o male a fare qualche punto a culo di rotta di Raffa era eravamo praticamente ancora all'inizio della cavalcata e quella partita lì è stata veramente qualcosa di esplosivo come ha detto benissimo di Marco dal punto di vista emozionale perché poi il gol di Davidino il culo di fuori si arrampica Enrique sbaglia il rigore un rigore inesistente il gol dell'1-1 che era da annullare per il fallo su Arnautovic cioè era una partita che volevano per forza dare agli altri ed era ed è stata la vittoria secondo me della polizia quella vittoria lì è stata la vittoria dell'onestà perché quella partita lì anche un cieco avrebbe capito in che direzione doveva andare quindi siamo più forti in tutte le avversità di tutto quello che ci succede contro e quella è stata la vittoria secondo me simbolo dello scudetto poi la vittoria dove hai capito che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto secondo me è quella con la Juve quella in casa con la Juve infatti Marotta ha detto è un momento più emozionante verso la seconda stella sicuramente la vittoria sulla Juve al San Siro da buon odiatore dei gobbi grande beh però comunque anche secondo me la vittoria non più emozionante ma la vittoria più importante in chiave scudetto è stata quella poi per le partite più belle dell'Inter invece io arriverai a parlare anche quella con l'Atalanta 4 a 0 non solo non quella di quest'anno quella dell'anno scorso dove c'era stata la partita rinviata l'Atalanta veniva da un periodo di partite di vittorie praticamente incredibili perché ne vinceva una dietro l'altra con 3 o 4 gol noi anche perché abbiamo fatto quel trafiletto salernitana Roma e Lecce 4 a 0 4 a 0 4 a 2 le vinciamo tutte con 4 gol di scarto praticamente e poi con l'Atalanta è stata l'ennesima dimostrazione quindi insomma e poi vabbè anche il 5 a 1 col mondo è stata una partita fantastica anche quella dal punto di vista dell'estetica è stata una delle migliori vabbè il 5 a 1 nel verbi è anche quello come non menzionarlo quello chiaramente è la copertina dello scudetto però sicuramente ma anche con la Fiorentina con la Fiorentina 4 a 0 eravamo alla terza giornata quindi non si poteva però anche lì è stata una grandissima Inter anche l'Inter di quest'anno contro l'Atalanta come prestazione secondo me è stata quella una delle migliori dell'era in Zaghi ma dell'anno scorso secondo me la migliore potrebbe essere quella con l'Atalanta sempre perché lì venivi veramente da delle da da un periodo di 4 reti a 0 sempre costantemente l'Atalanta era una squadra che stava avvenendo da un grandissimo periodo quindi quella lì è stata la vittoria secondo me più estetica rispetto alle altre poi innanzitutto adesso stamattina c'è stato il vertice tra l'Inter e Sala si è presentata direttamente Katherine Ralph la addetta di Octree insieme ad Antonello e poi insomma adesso si parla di addirittura Sala ha parlato ha detto la pista è quella di un nuovo stadio condiviso sempre nella stessa area di San Siro cioè qua torniamo indietro di tre anni praticamente qua torniamo indietro al primo progetto veramente insomma una veramente una roba tragicomica ma non voglio più commentare allora innanzitutto innanzitutto il City lunedì andrà incontro all'udienza per il fair play finanziario con accuse da parte della Premier League quindi ci sarà questo questa questa udienza questo processo secondo quanto riferisce Sky Sports News lunedì inizierà l'attesa udienza sulle 115 accuse mosse dalla Premier League al Manchester City per presunte violazioni finanziarie il club campione d'Inghilterra è accusato di aver violato le regole di spesa non fornendo informazioni accurate per un periodo di nove anni dal 2009 fino al 2018 oltre che di aver infranto le regole del fair play finanziario della UEFA quindi ci sono delle accuse pesanti contro il Manchester City in primis quella di non aver rivelato completamente i compensi di uno dei loro manager in un periodo di quattro anni l'ipotesi è che esistesse un contratto rimasto segreto mentre uno dei manager veniva pagato molto di più di quanto veniva ufficialmente dichiarato diciamo che qua siamo sulla stessa linea dei gobbi più o meno qua siamo sulla stessa linea dei gobbi che danno gli stipendi in nero quando non possono poi attaccano gli altri dicendo che li dilazionano quando in realtà si può dilazionare uno stipendio un pagamento invece loro li danno in nero con la bustarella l'hanno dati a Chiellini gli hanno dati a Ronaldo a Di Bala insomma hanno fatto queste porcate ecco diciamo che il City forse sta diventando un po' la Juve d'Inghilterra con addirittura la Premier sostiene che il City non ha rispettato le regole finanziarie della UEFA quindi praticamente uguale ai gobbi che hanno rotto due agreement con la UEFA per un periodo di cinque anni e che il club di Manchester non ha pienamente collaborato con l'indagine della Premier League quindi secondo quanto cosa rischia il City secondo quanto importa Sky il club rischierebbe una penalizzazione o nel caso più estremo addirittura la retrocessione in Championship queste sono un po' le sentenze e i problemi che stanno venendo al pettine di chi ha fatto il bello del cattivo tempo stessa cosa a Mbappé dove la commissione legale della della Liga Football France ha condannato il Pari a pagare 55 milioni di euro richiesti da Mbappé per gli stipendi che il Pari non ha pagato nei periodi di aprile maggio giugno quindi si stanno stanno venendo al pettine un po' di nodi ma gli unici nodi che non vengono al pettine sono quelli dei due agreement rotti dalla Juve e la possibile esclusione della Juventus dalla Champions per i prossimi tre anni che sono cose da accordi sono cose da leggere sono lì da vedere questi accordi presi questi agreement rotti dalla Juve ecco si parla di tutto tranne che delle sanzioni che dovrebbe riscontrare l'associazione a delinquere di Torino ma non ne parla nessuno ma poi insomma a vedere già gli ossessionati che parlano ah eh il City adesso è accusato potrebbero avere adesso gli danno la Champions di cartone dichiarazioni dove il culo non è che brucia è infiammato è infiammato dalla seconda stella che gli abbiamo vinto in faccia l'anno scorso perché delle volte basta leggere gli articoli basta informarsi sulle cose è i problemi del City sono dal 2009 al 2018 quindi la Champions l'hanno vinta nel 2022 e merite teste di cazzo come facciamo a vincerla in tribunale la Champions di cartone fenomeni ossessionati cioè questo vi fa capire proprio il primis l'ignoranza che deriva poi dal culo infiammato per parlare così dell'Inter ma poi non parlano invece del grande esposto Rutto Spork che addirittura si permette di parlare in prima pagina del film dell'Inter che è un'opera d'arte che io anche se non l'ho ancora visto ma ne sono convinto che sia un'opera d'arte è già un giornale spazzatura che si mette a criticare un'opera d'arte fa soltanto ridere ma il direttor Vaciago che mette in prima pagina Zhang fatto fuori dal film perché nel film non c'è nessuna intervista a Zhang Rutto Spork e Zhang fatto sparire l'ultimo imbarazzato a Inter cancellato dal film Scudetto Signor Vaciago io vorrei sapere invece che fine ha fatto l'esposto come mai sul suo quotidiano non è presente nessuna pagina nessun articolo nessun editoriale nessuna prima pagina sull'esposto DJ Identità Bianconera dell'esposto ridicolo archiviato dalla procura di Milano prima dell'esposto due pagine su Rutto Spork l'Inter rischia veramente adesso nulla sarà come prima ma si poteva iscrivere esposto archiviato non ne parla nessuno Rutto Spork non fa nemmeno un trafiletto sull'esposto eh quindi voi parlate di Zhang che non c'è io parlo invece dell'esposto che fine ha fatto l'esposto perché non se ne parla più su Rutto Spork eh no perché prima dell'esposto due pagine l'Inter si poteva iscrivere post esposto neanche mezzo trafiletto e ripeto ancora intasare le linee dei PM e della giustizia per queste cazzate per questi esposti infondati e faziosi e ditemi voi se una procura di Milano può accettare soltanto un esposto chiamato J Identità bianconera da 30 avvocati gobbi cioè se da domani ognuno facesse un esposto per i cazzi suoi e io se fossi avvocato farei esposti ogni giorno contro qualsiasi squadra ne farei uno contro il Milan perché non si sa ancora chi è il vero presidente ne farei un altro contro il Milan per fare il caso calcio scommesso e tonali e quello scuretto che hanno rubato tre anni fa farei 5 600 700 esposti ai gobbi per tutta la marmaglia la monnezza che hanno sotto da associazione a delinquere quali sono farei un esposto al Napoli per la roba di Osimè farei un esposto alla Roma per il prefinanziario farei un esposto allo Tito per i tamponi di quell'anno lì cioè se ognuno potesse fare il cazzo che meglio crede non è più la serie A è forum cioè da zone non prende più i diritti per i campi prende i diritti per i tribunali per vedere come vanno gli esposti come vanno le cose ma noi ma qua stiamo delirando cioè se andiamo avanti così non si farà più calcio si faranno cioè ma di che cazzo stiamo in veramente ma come cazzo si fa ma la cosa che mi stupisce è la procura di Milano che vabbè l'ha archiviato perché stavano finendo di ridere ovviamente quando l'hanno letto ma cioè la procura di Milano che addirittura accetta di prendere visione di sta roba è quello che mi fa ancora più ridere ma comunque ha archiviato senza problemi poi dopo addirittura ieri ho sentito il fenomeno di Suma a QSVS dire che stava dicendo una cosa l'apo e Carlo lo ha intimidito giustamente lui poi è rimasto zitto perché stava dicendo non serve che l'apo difenda l'Inter la difendono già i tribunali stava dicendo poi si è fermato quando ha detto ha detto e si è fermato e io ripeto ancora io vorrei Materazzi in dirigenza che curi la comunicazione per mandare belle letterine ma belle pesanti a questi ossessionati che da una vita rompono i coglioni all'Inter e poi si permettono di dire che nessuno ce l'ha con l'Inter ma va ma va ce l'hanno con loro da soli perché sono dei dei complessati degli espostati complessati questo è il riassunto ma poi uno paga 100 euro per diventare membro di una fondazione che fa esposti contro l'Inter e l'esposto non viene neanche pubblicato da questi qua ma come cazzo state messi ma 100 euro 29 euro dategli alla vostra società che almeno almeno sistema i bilanci perché siete pieni di debiti parlate degli altri ma quelli messi peggio siete voi meno 300 milioni con tutto il mercato che avete fatto quest'anno che senza i falsi in bilancio sarebbero stati un miliardo di debiti e voi lo sapete benissimo senza correggere il bilancio col pennarello sarebbero stati un miliardo di debiti lo sapete molto bene molto bene Turam vince il premio come miglior giocatore del mese di agosto per la Serie A e beh ci mancava pure da Opta Analysis tra l'altro l'Inter è la terza favorita a vincere la Champions davanti soltanto City e Real poi l'Arsenal sotto Leverkusen sotto Barcellona sotto Liverpool sotto PSG Elipsi Dortmund sotto Atletico Madrid sotto e anche il Bayern Monaco sotto poi sono solo statistiche di Opta però era da riportare ma poi no tornando un attimo ai PM e alla procura cioè quindi secondo loro tutti i PM sono interisti e il procuratore Viola era interista e l'altro PM era interista e quello aveva abbracciato dell'Inter e quello quindi alla procura di Milano sono tutti interisti secondo loro tutti interisti sono cioè come alla procura di Torino alla procura di Roma alla procura di Napoli alla procura di Salerno sono tutti interisti tutti interisti quindi ragazzi io vi do questa questo scoop se avete qualche processo per qualche crimine che avete commesso ecco ditegli che siete interisti andate dal giudice andate in tribunale e dite io sono interista vado in curva ecco allora allora se dite che siete interisti visto che i PM sono interisti vi assolveranno subito subito cioè non serve neanche che state lì a parlare dei fascicoli no no vi assolveranno subito secondo queste emerite teste di capocchia cioè sono tutti interisti i PM certo quindi io vado lì ammazzo due cristiani e mi vado e mi dice no guarda io sono interista a posto assolto ma vaffancu dai ma per cortesia dai la cosa più bella è vedere Francesco Repice che va in quella trasmissione di di ero dei gobbi non voglio sapere dove fosse con zampini una roba vergognosa e disumana per l'umanità e altri gobbi insomma indecenti e un pezzo da cineteca perché veramente Repice ha gli ha smerdati cioè senza volerlo perché Repice non è interista ovviamente ma è un amante del calcio e gli ha smerdati perché ha detto ma tutti ce l'hanno con la Juve cioè quindi la giustizia i PM sono tutti contro la Juve cioè quindi secondo voi i PM non hanno niente di meglio da fare che andare contro la Juve è quello che è la palissiana come cosa è la verità cioè esposti marotta league che anni meravigliosi cioè li bullizziamo sul campo li bullizziamo fuori dal campo ma che bello è devono spendere si indebitano per batterci e non ci riescono a battere cioè facciamo impazzire tutti che bello è che bello è ragazzi tifare l'Inter è una goduria è meglio della gnagna non lo potete mai capire mi spiace per i gobbi ma non lo capirete mai detto questo ragazzi abbiamo ormai parlato di tutto noi ci vediamo a un prossimo video mi raccomando ragazzi un like un'iscrizione al canale e seguitemi su Instagram marchial1908 e battitointer.it per difendere l'Inter e seguitemi sugli articoli di barzacom.it per l'informazione seria non solo sull'Inter ma su tutte le notizie campionato Ligan Liga Champions su tutto quello che volete tutto su barzacom e quindi iscrivetevi anche al canale YouTube mi raccomando mettete un like e una campanellina per essere sempre aggiornati sulle edizioni giornaliere future noi ci vediamo domani con il pre-partita e poi ci vediamo domenica mattina con il Forza Nerazzurri e poi domenica sera con il post-partita ciao ragazzi amola sempre